Ciao a tutti e bentornati su Indie Gameplay It. Oggi siamo su Hellpoint, un gioco uscito alla fine di luglio, costa 29,99€, suo prezzo originale, ed è un gioco di ruolo, misto, souls-like, misto, ambientazione, un po' la dead space. Ha fatto molto discute, è un gioco che si attesta più o meno sulla ventina di ore, ed è un gioco che ha delle novità rispetto ad altri titoli simili. Iniziamo subito una nuova partita che vi spiego un pochino. Si può giocare con tastiera o mouse, tastiera o pad, è fortemente consigliato il pad, ma io gioco con la tastiera ovviamente. Ci troviamo su Irid Novo, che è una stazione spaziale che orbita intorno a un buco nero. E noi nasciamo da una sorta di macchinario, diciamo, e tutta la storia sarà improntata sullo scoprire perché siamo stati creati lì, per chi è il nostro creatore, il nostro creatore perci guiderà durante l'avventura. La particolarità di questo titolo è che in concomitanza della, diciamo, orbita della stazione intorno al buco nero, si verificheranno degli eventi che porteranno ad un cambio di alcuni parametri dei nemici, dei danni, la presenza di nemici in posti diversi da quelli in cui erano inizialmente previsti, insomma, l'accesso a nuove aree della stazione. Infatti è un gioco basato sull'esplorazione di tutta questa stazione spaziale, quindi l'ambientazione è di questo tipo fantascientifico, ecco. Lo andiamo subito a provare, non sono una cima, come voi sapete nei Souls, nel video che ho fatto su Bloodborne e sul video che ho fatto su Sekiro, sono stato travolto dalle critiche, insomma. Comunque noi siamo questo, non so come definirlo, una sorta di androide. Le meccaniche sono Souls-like e quello lo vedremo a breve, perché comunque potremo equipaggiare le armi, potremo equipaggiare le cure, gli scudi, potremo utilizzare delle armi a distanza che andranno a consumare ognuna una, diciamo, barra diversa. Iniziamo a muoverci. Quello che è noto è che c'è questa sorta di, diciamo, gravità un po' diversa. Siamo una progenie, respira, il disagio che provi è temporaneo. Questa voce mi ricorda anche un pochino Talos Principal. Ok, dobbiamo andare qui. Allora, non si percepisce la pesantezza del personaggio, è proprio molto, mi dà molto l'idea, l'ho già provato un pochino, un'idea un po' arcade. Premiamo ESC e andiamo a cliccare sullo slot qui della vita, doppio clic e andiamo a equipaggiare e col tasto F ci possiamo andare a curare. In alto a sinistra vedete le barre, premo F, mi inietto nel collo questa cosa e riporto la vita al massimo. La vita è la barra rossa. La stamina, la stamina, come volete pronunciarla, è col tasto, è quella verde, scusate, con il tasto CTRL, rotoliamo. In ogni corsa con lo shift o rotolata con il CTRL andiamo a consumare un pochino. Andiamo avanti e adesso andremo a prendere le armi. Il gioco è in italiano, non doppiato ovviamente. I parametri sembrano buoni, andiamo avanti e ti aspetterò dall'altra parte della sala dell'ambasciata. Poi c'è questo mistero che ci porterà a scoprire sempre più cose. Possiamo interagire con le varie cose. Infatti vediamo che c'è il buco nero. Tra l'altro a me i buchi neri suscitano un fascino particolare. Qua possiamo andare a vedere dei testi. È un po' la Dark Souls ed è incredibile quanto queste meccaniche di questi messaggi siano tutti sempre uguali in questo tipo di gioco. Ad esempio qua ce n'è un altro. Ispezione equipaggia le armi. Quindi probabilmente c'è una scala, noi siamo saltati gioco. Comunque recuperiamo un tubo. Cioè nel senso che c'è proprio un tubo. E andiamo a recuperare anche questo. stabilizza. E qua ci sono queste sorte di falò. Infusione dell'utente. Possiamo andare ad alzare una caratteristica scelta. Tra queste sono salute, resistenza, energia, carica, forza, riflessi, cognizione e premonizione. Ci vanno poi a influenzare le difese di fisico, energia, nil, induzione, entropia, radiazione. Le nostre parametri vitali. Appunto la stamina, la vita e questa blu che dovrebbe regolare le armi a distanza. Insomma quelle elettriche. Costo del livello. Ci serviranno un po' di, diciamo, chiamiamole anime. Ora, tasto ESC, seleziono un'arma, doppio clic e ho il mio tubo. Ora, è un gioco che supporta anche il cooperativo. da cooperativo, diciamo, sul divano, quindi dovrebbe essere schermo condiviso, fino al online, cooperativo online, dove potremmo chiedere agli amici di darci una mano, fino al pvp, dove potremmo sfidare altri utenti. Non so al momento come si faccia ad attivare questa modalità, perché dovrebbe essere una cosa che scopriamo più avanti. Col tasto sinistro del mouse all'attacco veloce, col tasto destro, questo. Allora, ok. Se vi ricordate, se avete seguito, ho fatto una live su un gioco molto simile. Adesso io non ricordo il nome, ma non vorrei nemmeno farlo. l'ho trovato più intrigante, onestamente. Questo lo reputo più un gioco da 7. Perché comunque, se vi piacciono i soul slice, se vi piace questa ambientazione, se volete mettere via la prova, questo gioco, da quello che ho potuto vedere tutto, tranne che è paragonabile a un souls come difficoltà. Anche se morirò spesso. Quindi, perché qua si può saltare giù? Ma direi che non è il caso. Dovrebbe esserci una scala qua in giro. Salta. Ci sono scale. Da lì siamo arrivati. Quindi io direi che salto giù. Col tasto F poi mi curo, ma lo farò dopo. Sono morto, ma ecco. Progenie deceduta. Allora, niente, siamo già morti subito. Pensavo si potesse salto giù. Anche se, a dir la verità, io ero saltato giù l'altra volta che ho giocato, ma probabilmente non avevo subito danno dai primi attacchi. Quindi adesso vediamo cosa succede nel momento in cui veniamo rigenerati. Ok, veniamo rigenerati da qua, dal falò, ovviamente. Nulla da... di nuovo. Si guarda sempre il... il buco nero. Andiamo di qua. Ovviamente il senso dell'orientamento è tutto, perché qua comunque possiamo disoccupaggiare, vedere i dettagli dell'arma, nella descrizione, ma dobbiamo orientarci per conto nostro. Almeno al momento credo non ci sia una mappa. Lo sto esplorando insieme a voi, anche se dire la verità, come vi ho detto, l'ho già provato il gioco. Non lo reputo il gioco della vita, perché è un gioco puramente, secondo me, per appassionati. Perché non... dovete essere proprio appassionati di Souls. Questa è l'ennesima sfida, dove io sono veramente scarsissimo. E... vedremo che cosa succede. Usiamo anche la cura. Adesso ci riproviamo. Adesso vediamo. Vediamo di giocare un pochino con... Perfetto. Stavolta ce l'abbiamo fatta. Fantasma sconfitto. Ok. Ehm... non lo so. Io mi sono curato. Mi curo di nuovo. Anche non si sa mai. E qua dovrebbe saltarne fuori un altro, ma adesso ci pensiamo subito. Uh proprio papapapa. Ci è fatto quasi male. Ok, siamo... ce l'abbiamo fatta. Perfetto. Prendiamo la scala. Andiamo su. E vediamo se riusciamo a trovare qualcos'altro. Da questa parte. una porta. Ok. Salve. Ma che cacchio? Ma io vi giuro. Adesso c'è stato un aggiornamento oggi. Cosa hanno aumentato la difficoltà? Vabbè. Abbiamo recuperato degli azioni. Posso curarmi? Sì. Perfetto. Ho finito le cure adesso. Boiamondo! Che male che fa questo. Mamma mia. Boiamondo. Ok. Ce l'abbiamo fatta. E ogni uccisione che facciamo ricarica quella barra sotto in basso a sinistra, che poi ci permette di curarci. Che è una cosa molto interessante. Mi servirebbe uno scudo però per aumentare un pochino la difesa. Che se veramente io, giuro, era più facile ieri. Probabilmente hanno avuto qualche critica riguardo alla difficoltà perché, vi giuro, non era così difficile ieri. Ok. Andiamo avanti. Dovremmo trovare lo scudo. Almeno il gioco ce lo dovrebbe far trovare. No. Abbiamo trovato tante azioni. E adesso dovremmo andare a potenziarci. Boiamondo. Quanti sono? E non ho abbastanza cure. Mannaggia. 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 Salve. Allora, iniziamo uno alla volta. Allora, inizio a prendere un po' di carica. Ok. Qua. Eh. Cioè, vabbè. Io non ho più parole, davvero. Perché sono veramente scarsissimo. Ok. Qua possiamo, tornando indietro, consumare azioni. E in effetti possiamo già andare a potenziarci. Quindi non abbiamo lasciato tutto sul campo di battaglia. Io vado a potenziarmi un livello di salute e un livello di forza. No, non ce la faccio. Confermo. Niente. Ci costrerà sempre di più. Però abbiamo aumentato un pochino la salute. Quindi, vabbè. Adesso i mostri si sono rigenerati tutti. Quindi bisogna tornare giù. Eh. Perché gli azioni ci sono rimasti. In alto a destra si vedono ancora. Però vorrei tornare dove ero morto. Saltando tutto e tutti. Se possiamo. Sì. È un pelino, lo ammetto, legnoso. Eh. Comunque non c'è più il fantasma. Il fantasma di prima non c'era. Probabilmente qualcosa dovuto magari alla... Alla... L'orbita della stazione. Sì. Questo qua fa un attacco che è veramente bastardissimo. Comunque, sempre più azioni. Dovremo magari tornare indietro. Se siamo messi male andiamo a potenziarci con tutti gli azioni che abbiamo preso. Però volevo andare a recuperare. Perché volevo anche capire il motivo per cui alcune cose si recuperano e altre no. La pressione di shift... di control, scusate. Ci fa saltare in automatico indietro. Dovrei imparare a usarla un po' di più. Va bene. Eh. Ok. Mi scusi. Perdoni. Mamma mia che male che fa sto qua. Eh. Mi scusi. Io adesso non ho tempo. Perché devo andare a recuperare le mie cose che ho lasciato lì. Lì sotto c'è un fantasma. No. Le ho lasciate là dietro. Guardate là. Che sono tutte là le cose che ho lasciato da parte. Vabbè. Mi curo. Vedete che ho due cure a disposizione. C'è scritto per due. In basso a sinistra. Quindi adesso ho un per uno. Uh. Il fantasmino è qui. Scusi eh. Perdoni. Non è neanche così forte per dire la verità però. Andrebbe. Boiamondo. Curati. Ok. Se non ci metti sei ore a curarti però. Ok. Il fantasma ha sconfitto. Quello lì invece mi sembra un pelino più temibile. Scusate ma io avrei leggerissimamente fretta di recuperare le mie cose. Qui. Recupera. Eh. Mi sono curato ancora per sbaglio. E questo cos'è? Lo scudo? Conduttore catalizzatore. Ok. Mi sono messo qua dentro. E... Interagisci. Quindi posso riapparire. Ok. Ok. Vediamo se possiamo equipaggiare qualcos'altro. Sì. Nella mano due possiamo mettere lo scudo che probabilmente ho paeso senza accorgermi. Quindi adesso siamo un po' più difesi. Non abbiamo altro. Credo. Perché qua ci sono modulo della mente. Carica. Non so che cosa serve. testa. Busto. Modulo del corpo. Modulo della mente. Tutto l'occupaggiamento. Ok. Interessante. Quello lì è rosso però eh. Cioè non lo so. Io cerco di prenderlo colpendolo così. Non è neanche così a dire la verità. Sembra così resistente. E il fatto che devo calcolarmi il pattern d'attacco. Ok. Lì c'è qualcosa. Adesso voglio capire se mi segue quel tizio lì. Sì. Perdoni eh ma... Ok. Abbiamo potenziato un altro livello. Allora qua cosa c'è? Che cosa? Quello lì attacca. Non scherza. Ok. Posso curarmi. No. Voglio capire cosa ho preso. Perché... ho preso qualcosa... nell'arma 2. No. L'esequipaggio. Vabbè. Perdoni eh. Ok. So ancora vivo. Sono ancora vivo. mi sembra dentro lì è pieno di gente niente ma avevo visto qualcosa qua e lì dentro c'è un qualcosa di giallo che dovrebbe essere un qualcosa comunque di valore ma non posso entrarci perché arrampicati vediamo un po' ah si sale da qui e si può scendere vediamo un po' arrampicati scendi eh si eccolo qua ora chiave del cavo della bin ok molto bene torniamo su come vi ho detto la parte diciamo più importante su cui è focalizzato il gioco è il fatto che noi qui dobbiamo esplorare principalmente esplorare e si sbloccano come vi ho già detto alcune parti della stazione spaziale in concomitanza con alcuni diciamo rotte diciamo dell'orbita della stazione intorno al buco nero cambiano anche delle cose quindi cambiano della presenza o meno di alcuni mostri che appunto è influenzata dal buco nero cos'è questo? scusi eh ma è questo boh io distruggo ma speriamo di trovare un fallo a quanto prima perché ovviamente non ha senso poi farvi vedere 20.000 ore dove io muoio ma volevo diciamo farvelo scoprire farvi vedere un pochino la mia opinione io adesso sono piuttosto certo che questo non sia esattamente il mio gioco il mio genere ma ne sono rimasto sorpreso perché io di questo gioco non sapevo nulla mi è stato proposto di portarlo con un video e insomma attendo anche il vostro parere insomma se siete degli appassionati ovviamente io adesso mannaggia non ho più consuma azioni no però ne ho ma li ha tenuti non so come mai vabbè io potenzo stavolta la forza voglio far più danno confermo dicevo ovviamente io non gradisco quei commenti in cui mi viene detto fai schifo e siamo qua a esaminare un gioco e io vi dico tecnicamente mi sembra abbastanza legnosetto però per un appassionato io ripeto io cerco sempre giochi complessi giochi di ruolo i souls diciamo che non ci vado molto d'accordo perché appunto sono difficili e io soffro molto in tutti i giochi i boss li ho sofferti in The Witcher 2 The Witcher 3 un po' meno perché ho imparato ad affrontarli le ho sofferti tanto in Deus Ex e in tantissimi giochi e nei souls diciamo che tutto si basa su quello io ho iniziato a prendere testate al muro dopo il primo boss che ho battuto giusto per il rotto della cuffia seguendo dei video quindi insomma non sono propriamente i miei giochi comunque per quello che abbiamo visto cioè poco posso dirvi che appunto trovo il gioco piuttosto legnoso ma non è male alla fine perché comunque è anche originale questa cosa della stazione che vaga che orbita intorno a questo buco nero e vengono cambiate un po' le carte in tavola adesso qua molto male allora fatemi sapere che cosa ne pensate il gioco lo trovate adesso al momento in cui sto registrando il gioco è scontato 23 euro costa 29 non so dirvi quanto diciamo che un prezzo giusto per un appassionato 29 ci potrebbe anche stare il prezzo ideale secondo me è 19,99 19,99 parlando di un gioco finito però diciamo che ripeto solo solo e soltanto per appassionati poi non voglio nemmeno offendere gli appassionati di Dead Space però lo ricorda un pochino come ricorda anche Prey il fatto di avere questa stazione da qui comunque noi non usciamo e svolgiamo tutta l'avventura qua dentro però ovviamente con Dead Space non ha niente a che fare gioco dove si completa più o meno sulle 20 ore ma vabbè dicevo supporto al multiplayer è giocabile anche su più run perché da quello che ho capito ci sono dei passaggi segreti che poi scoprite vi cambiano un pochino i percorsi quindi può essere interessante quello bene ragazzi allora fatemi sapere che cosa ne pensate di questo gioco poi lasciatemi ovviamente dei commenti costruttivi qua sotto questo era Hellpoint fatemi sapere alla prossima e ciao 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 a tutti ciao a tutti